Ciao ragazzi, buongiorno! Oggi un video che non ho mai fatto nel canale, quindi per questo ho bisogno del vostro risconto sotto nei commenti. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace e nel caso, dato che è il primo video, datemi anche dei consigli per riuscire a farlo al meglio, nel caso appunto vi piacesse. Il video di oggi è uno svuota la spesa, è appunto un video di prova, quindi in questa spesa non ci sarà tutto, quindi questa spesa non è una spesa completa, perché comunque sono già andata a fare la spesa anche due giorni fa e oggi ho semplicemente preso le robe che mancavano. Quindi mancano un sacco di cose, tipo tanta frutta e verdura che avevo già preso, mancano tutte le cose per la colazione, mancano farine varie, un po' di cose, però se questa tipologia di video vi piace si potrebbe anche andare a curiosare all'interno della mia dispensa, per avere un'idea generale di quali sono insomma le cose che prendo generalmente, tenendo anche presente comunque che è un periodo abbastanza particolare e quindi diciamo che non è il mio modo di fare la spesa abituale. Ecco, e niente, fatemi sapere tutto nei commenti, mi raccomando, e vi lascio al video. Ciao! Cominciamo con le cose da mettere in congelatore. Allora, questo è del pesce congelato, in genere preferisco prenderlo congelato per vari motivi, il primo è perché non serve che cambio 10 negozi e il secondo perché non sono capace a pulirlo e non mi piace neanche farlo, quindi preferisco prenderlo congelato. Prendiamo spesso questo e altri pochi altri tipi di pesce, il pesce mi piace molto, però sono molto molto delicata con i gusti del pesce, infatti quelli che mangio sono davvero pochi. Però è uno dei miei piatti preferiti e stai giù e questo in particolare è il pangasio perché è appunto uno di quei pesci che ha un gusto delicato, non troppo forte, veloce, facile da cucinare insomma, quindi di solito prendiamo questo. Tu non puoi venire qui! Poi altra cosa interessante che può piacervi è questa, questa qui è una candeggina delicata che trovo poco in giro, faccio fatica a trovarla in giro, però quando la trovo la prendo subito, non ne uso molta, però vedo che in alcune situazioni mi aiuta particolarmente, quindi cerco di averne sempre una confezione in casa. Prendo questa perché la candeggina normale è bandita nella mia casa ormai da anni e non riesco più né a vederla né a sentire l'odore e poi ci sono altre mille alternative naturali da utilizzare come questa. Bene, cominciamo con la vera e propria spesa, questa forse è la parte più interessante del mio svuota alla spesa perché è una scatola salvabox, ogni tanto in negozio le fanno, io vado spesso a cercare in negozio le cose che costano meno, le cose scontate, le cose in scadenza, intanto perché mi costano meno, quindi ci vado a guadagnare e poi perché comunque mi scoccia che il cibo venga buttato, quindi preferisco prendere prima quello. Questo però non vale per tutto, cerco di prendere, per alcuni alimenti cerco di prendere la scadenza più lontana, ma per non essere io stessa poi alla fine a buttare, a comprare il prodotto e a buttarlo perché alla fine non l'ho usato. E questa appunto è una salvaspesa box e qui dentro praticamente mettono dentro la frutta e la verdura che praticamente è battuta o che non ha un bel aspetto o che è lì da parecchio tempo. Non so nemmeno io cosa c'è qui dentro, quindi adesso andiamo ad aprirla assieme. Allora, scopriamo cosa c'è qui dentro. Zucchine, ottimo perché l'ho anche comprate. E comunque se guardate, sono di bel aspetto, non è che sono proprio da buttare, voglio dire. Questa magari è un po' rovinata qui, ma è ancora buona. Poi mandarini e arance, queste non sono bellissime da vedere, ma a me non interessa perché tanto le utilizzo solo per far spremuta. Questa non credo che sia un'arancia e non ho idea di che frutto siano, comunque sono più piatte. Forse sono... Mmm, pompelmo! È un pompelmo questo. Quindi tiro via tutto questo, così intanto le metto nel cesto della frutta e li beriamo per vedere cosa c'è ancora. Poi dei kiwi, ecco, questi speravo che non ci fossero perché ho il cesto della frutta pieno e non so come utilizzarli. Se avete alcune idee da suggerirmi, che non siano frullati perché ormai ne ho bevuti talmente tanti, ve ne sarei gratta. Lasciatemi lo scritto sotto nei commenti. Poi due lime, bellissimi, tra l'altro. Delle carote, queste sono un po', hanno alcune... Ma la smetti di curiosare? Queste hanno alcune macchiette nere, però c'è niente di immangiabile, questa è perfetta e questa anche. Due finocchi e questi sì, sono un po' secchi, però... Boh, magari facendoli al forno o in padella, magari facendoli gratinati, vedremo, comunque non sono immangiabili. Due banane e anche queste sono abbastanza mature ma sono ancora dure, nel senso che hanno le macchie nere ma non sono morale, quindi probabilmente hanno preso solo qualche botta e tra l'altro non si sente, quindi vuol dire che sono perfette. E poi tutte queste piccole patate, che io le adoro perché le lavo benissimo e poi le taglio a metà se sono troppo grosse e le butto in forno direttamente così, sale e pepe rosmarino vengono una bomba, senza neanche sbucciarle perché, boh, a parte che ci mettere troppo tempo a sbucciare una patata così e poi se gli tiro via anche la buccia alla fine non mi libererebbe più niente da mangiare ma vi assicuro che sono molto molto buone. Poi continuando con la frutta e la verdura, dato che stiamo in tema, rimaniamo in tema qui ho preso dei peperoni rossi, patate, purtroppo non c'erano scusa altrimenti avrei preso quelle e niente mi sono beccata quelle in sacchetto, purtroppo il supermercato va un po' con quello che c'è soprattutto in questo periodo. mannaggia a me che faccio 16 nodi cetrioli che non sono ancora in stagione ma mi servono per fare una ricetta per pranzo oggi una melanzana e anche questa mi serve per fare una ricetta però questa è per domani cipolle rosse di solito preferisco queste perché hanno un gusto più delicato ma sempre per la ricetta di oggi mi servono queste banane della lattuga iceberg altre zucchine perché non sapevo cosa c'era dentro la box quindi ho preso quello che mi serviva questo vabbè si capisce già che cos'è è un ananas preso perché era in offerta probabilmente ce li hanno lì da molto tempo e quindi li devono far fuori poi ho preso anche delle lattine queste mi servono per quando non ho tempo di andare a fare la spesa per gli imprevisti diciamo così e quindi ho preso piselli funghi e fagioli queste mi servono da tenere in dispensa appunto in caso di necessità e devo dire però che nell'ultimo anno ne ho presi più del solito per evitare di andare a fare la spesa ogni 3-4 giorni o ogni settimana insomma per fare una spesa che mi durasse due settimane per non uscire troppo e quindi sì non è fresca però devo dire che mi salvano durante le necessità e in questo caso appunto anche per altri motivi dato il periodo che stiamo passando queste sono delle misto per insalata di riso e le compro da mettere in camper perché per il camper bisognerà fare una spesa un po' particolare se vi interessa l'argomento me lo lasciate scritto nei commenti e cercherò di realizzare anche un video dedicato al camper per la spesa dedicata al camper e quindi sì questi due li metterò appunto nella dispensa del camper poi yogurt questo è bianco intero e questo è alla frutta non sono riuscita a capire se è frutta frullata o frutta a pezzi perché io odio la frutta i pezzi di frutta nello yogurt preferisco la frutta frullata dentro purtroppo non c'è scritto da nessuna parte quindi non si capisce non sono gli yogurt migliori in vendita ma io purtroppo devo fare i conti anche con il budget e quindi cerco di avere un compromesso tra il prodotto migliore e il prezzo migliore pane questo l'ho comprato di solito lo faccio io però questo l'ho comprato perché oggi probabilmente per tutta la settimana non avrò tempo di farlo pancetta sia affumicata che dolce poi formaggio fresco spalmabile anche questo di solito me lo faccio ma siccome sono rimasta senza latte non avevo la possibilità di farmelo e quindi ho comprato questa per questi due giorni poi insomma nei prossimi giorni lo preparerò quindi è per tappare il buco ecco poi il latte latte senza lattosio perché riusciamo tutti quanti a mangiare i latticini però il latte non si sa bene perché ci fa venire mal di pancia con il cibo abbiamo finito mi mancano le ultime due cose da mostrarvi e questa è la schiuma da barba di mio marito e poi ho preso questa che è una maschera per capelli rigenerante per capelli danneggiati ho letto gli ingredienti e mi sembra che non ci siano ingredienti che non mi piacciono però ce n'è uno che non conosco e quindi devo andare ad informarmi di cosa si tratta per il resto però è a posto e niente con questo era tutto questo video di prova svuota la spesa è finito fatemi sapere tutto quello che pensate sotto nei commenti ricordatevi di lasciare un mi piace per sostenermi iscrivetevi al canale cliccate la campanellina se non volete perdervi i prossimi video con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao